buon pomeriggio allora ne approfitto che sono a casa perchè mi è stato mandato questo link da un mio iscritto tale appleblog italy facendomi notare come questo tizio ovvero cami blog tramite titoli ingannevoli vedete 0 2 all goals germany vs italy l'ha scritto anche in inglese e ha avuto 8.130 visualizzazioni ovviamente ingannando tutti io mi chiedo per quale motivo si arrivi a questo punto se noi andiamo sul canale di questo tizio vedremo che più o meno l'età media deve essere circa sui 12-13 anni credo voglio proprio andare a vedere un po' la connessione lenta per non dire lentissima mi sa se ce la faremo eccolo qua siamo in finale osni vabbè già si capisce tutto da come si comporta insomma ovviamente avrà la partnership farlocca c'è veramente è una cosa assurda c'è veramente sei pietoso camiblog sei pietoso veramente c'è fare fare video così ingannevoli mettendo le scritte in inglese per avere tante visualizzazioni veramente sei sei pietoso e poco serio proprio cioè chiudi il canale perché non ha proprio senso cioè ditemi voi se questo tizio ah questo tizio tra l'altro avevo anche visto che aveva insultato i Giulio dicendogli di ritirarsi allora ti dico una cosa camiblog ritirati tu cioè sei indecente sei il classico bimbo minchia e e niente questo per farvi vedere insomma come come viaggio a youtube e il motivo per cui ultimamente mi sta facendo schifo e avevo pensato di andare sul vimeo cosa che purtroppo non è possibile perché i caricamenti sono troppo troppo lenti se no avrei già cambiato e niente veramente pietoso pietoso pietosissimo e comunque in questo modo caro camiblog fai vedere che noi in Italia siamo i soliti stronzi cioè fai la classica italianata da da imbecil e niente comunque se avete da segnalare canali di questo tipo per sputtanarli un po' scrivetemi pure che io ci faccio dei video senza problemi insomma vabbè anche qui Germania 1 2 anche qua anche qua 3.054 visualizzazioni cioè cacchio neanche Giacomo Minz ne ha così tante solo che almeno lui si fa si è sempre fatto il culo almeno un po' di anni fa adesso ormai da mcblog è diventato mcblog ha cambiato direzione ma ma neanche Giacomo Minz e mamma mia mamma mia che brutta gente che c'è su youtube faccio un fermo immagine su questo tizio guardatelo se lo incontrate per strada evitatelo come la muerte grazie a tutti